Nell'auditorium dell'Università Yulm si è tenuta l'anteprima nazionale del film La verità vi spiego sull'amore. Sette anni insieme. Sette. Come i vizi capitali e gli angeli dell'apocalisse. Pochi rispetto a tutta la vita, ma troppi per ricominciarne una dal capo. Gli studenti Yulm hanno potuto discutere della commedia con il produttore Guglielmo Marchetti, il regista Max Croci, l'autrice del romanzo dal quale tratto il film Enrico Tesio e lo sceneggiatore Federico Sperindei, laureato Yulm in televisione cinema e new media. Siamo qui con Lisa Metelli, laureata Yulm in televisione cinema e new media. Lisa ha appena fatto un'esperienza su un set cinematografico del film, appunto, La verità vi spiego sull'amore. Come hai trovato questo stage? Allora, per me è stata un'esperienza formativa veramente importante, nel senso che, innanzitutto, a me interessa regia. È stato importante perché sui set tu impari a relazionarti con tutte le figure professionali che ci lavorano. Quindi tu conosci, impari a conoscere i tempi e le necessità di tutti i reparti, i costumi, il trucco, la fotografia, tutti quanti. E questo per me è indispensabile, soprattutto se vuoi fare regia, perché come fai a mandare avanti un set se non sai quali sono le esigenze delle persone che ci lavorano. Quindi per me c'è la ragione per cui è stata un'esperienza formativa importante. La prima ragione è questa. Io ero ufficialmente stagista nel reparto regia, quindi ho affiancato gli assistenti alla regia e ho fatto anche PA. Quindi ho lavorato anche un po' con produzione, perché comunque ci sono state delle giornate campali in cui serviva a correre. Capitavano delle giornate in cui magari stavo sul set, proprio all'interno del set. Altri giorni magari serviva stare al campo base, cioè dove ci sono i camerini degli attori, accompagnare gli attori, seguirli. Ad esempio chiama Ambra, chiama Carolina, chiama e tu li accompagni. Mi è capitato in trasferta a Torino di fare i pick up, quindi con NCC di andare a prendere gli attori e poi stare in collegamento col set. Siamo a cinque minuti, stiamo arrivando perché per loro è importante. Quanto è durato il set? Sei settimane di riprese, quattro a Roma, due in trasferta a Torino. Tre motivi per cui vale la pena andare a vedere al cinema, la verità vi spiego sull'amore. È una storia campione, come tutti i film, la storia campione di una donna, Dora, che può essere chiunque di noi, però non racconta la storia di una donna in verità, racconta la storia di una donna che racconta una storia, perché comunque il film è tratto da un libro che è ispirato al blog, che è stato scritto da una donna che ci ha messo dentro pezzi di vita vissuta. È bello perché passi con leggerezza e con facilità da un momento veramente di risate genuine a un momento di commozione e fazzoletti. È un film cinematograficamente e fotograficamente bello da guardare, secondo me.